Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di video pensiero sia lotato Gesù Cristo e Ave Maria e gloria a Dio Padre Onipotente, Dio vi benedica ovviamente oggi questo video pensiero, poi se Dio vorrà più tardi vi faremo ovviamente sapere se faremo una live in giornata ma come al solito vi terremo ovviamente informati il video che stiamo proponendo, come vedete dal titolo, è che a Bologna hanno creato una fontana a Satana cioè una cosa ovviamente inverosimile, infatti facciamo un gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora è sempre nei secoli dei secoli, Amen che San Michele Arcangelo, vedete che qui nel Santino, che ci difenda dal demonio fondamentalmente e come dice anche la Santa Prechiera che poi dopo faremo alla fine del video dobbiamo pregare molto fratelli e sorelle una cosa scandalosa, cioè hanno messo a Bologna fratelli e sorelle una fontana cioè, come poi vedete, io vi metterò ovviamente il link in descrizione proprio del video più che delle informative e delle, diciamo, delle, come possiamo dire, a livello di articoli più che altro andate a vedere proprio il video che renda ancora di più per far vedere con l'occhio quello che questi stanno proponendo cioè la massoneria e tutti costoro stanno facendo una cosa veramente assurda cioè stanno dedicando a Satana il mondo, fratelli e sorelle e quello che fa più specie, ovviamente, è quello anche delle autorità pubbliche che fanno questa cosa proprio perché molti iscritti alla massoneria, purtroppo, non possono farne a meno purtroppo, questo io dico non perché lo dico io, ma la Vergine Maria in tante apparizioni l'ha detto che questi sarebbero stati tempi molto, 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 molto difficili, fratelli e sorelle una cosa veramente, veramente assurdi, fratelli e sorelle per questo intanto io vi dico di pregare tanto, fratelli e sorelle ma proprio non perché lo dico io, ma perché proprio lo dice Dio in tante apparizioni, poi ne lo dice anche nel Vangelo bisogna pregare per la Santa Chiesa e pregare anche per il mondo intero, fratelli e sorelle perché la situazione attuale non è delle migliori per questo stiamo in preghiera, fratelli e sorelle e come vedrete anche da questo video se voi vedete bene proprio la statua di questa fontana far brividire perché è proprio la statua del demonio fondamentalmente una cosa veramente assurda e soprattutto se fate caso sulla pancia di questo maledetto c'è anche l'occhio della massoneria, fratelli e sorelle cioè è proprio palese, fratelli e sorelle sta su, come vedrete la raffigurazione su un mondo c'è il serpente che gira intorno una cosa assurda, veramente che la beata Vergine Maria ci difenda davvero perché è una cosa veramente assurda, fratelli e sorelle e bisogna pregare molto in questi tempi perché questi sono i tempi, fratelli e sorelle è una cosa veramente, veramente, veramente assurda comunque se anche, ripeto se anche incominciano anche praticamente le autorità pubbliche a fare queste cose vuol dire praticamente, cari fratelli e sorelle che quello che dicevano le profezie che le persecuzioni inizieranno pure qui da noi ma non a livello solo morale come diceva giustamente la Vergine Maria in tante altre parti del mondo e anche prima ovviamente di queste apparizioni attuali ma anche, parlo di apparizioni diciamo riconosciute dalla Chiesa che partiamo per esempio dal buon successo come già vi avevo detto nel 1500, 1400, 1500 che già abbiamo visto nel nostro video questo fa vedere che la situazione non è delle migliori e all'epoca lo diceva che sarebbe stato proprio il maligno in questi ultimi tempi diciamo, siccome che il tempo sta per finire come ben sapete stiamo veramente all'abominio più totale fratelli e sorelle io non so cosa dichiarerà ora la Santa Sede se ci saranno notizie in merito non ho trovato niente fratelli e sorelle ma se voi trovate mettetelo qui ovviamente in questo video potete scrivere, commentare e dire, fare fate vobbis come si suol dire però fratelli e sorelle dobbiamo veramente pregare tanto e dire la verità fondamentalmente uno e preghiamo anche per la Santa Chiesa che speriamo che dia anche un giudizio verso questa cosa e poi inoltre come poi se Dio vorrà che faremo una live io sto vedendo che molti in tutte diciamo molti video ho visto soprattutto questa mattina se Dio vuole video su Međugorje ma faremo poi una puntata a parte di questa cosa nel senso mi spiego meglio intanto oggi è la Santa Messa che oggi è il giorno del Signore infatti adesso si va alla Santa Messa come si suol dire perché viene proprio dalla gioia più totale di andarci ovviamente a ricevere il corpo e il sangue di Cristo proprio per fortificarsi e ovviamente per meditare su quello che sta accadendo proprio sulle parole del Santo Vangelo come vi dicevo ieri nella diretta live della parola di Geremia spero che quella sera che abbiamo fatto ovviamente la preghiera come vi dicevo è rimasta diciamo quelle parole del profeta Geremia quelle parole di Dio molto forti fondamentalmente proprio riguardando ad oggi giorno e riferendosi invece a quello che è successo a Bologna bisogna pregare molto fratelli e sorelle Bologna non città credo in un paesino lì vicino ma è indifferente o si fa lì o lo si fa da un'altra parte poco cambia ma i figli del demonio fratelli e sorelle stanno veramente intensificando le loro reazioni la preghiera come sappiamo è quella di San Michele Arcangelo che dice San Michele Arcangelo difendici nella battaglia si tu il nostro sostegno contro la perfide e l'insidio del diavolo che Dio eserciti il suo dominio su di lui te ne preghiamo supplichevoli e tu principe della menizia celeste con la potenza divina ricaccia l'inferno satana e gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo a perdizione delle anime amen quindi diffondete se potete se Dio vuole ovviamente questo video per far capire che le situazioni purtroppo sono queste l'Italia è stata sempre benedetta dal Signore nostro Gesù proprio perché gli apostoli sono venuti a Roma qui San Pietro e San Paolo proprio per edificare la Chiesa di Cristo come sapete oggi nel Vangelo Gesù dice a San Pietro ma tu mi ami e San Pietro gli dice io ti voglio bene gli risponde per tre volte che tu sei tutto e io ti voglio bene ecco e dice pace le mie pecore cioè la Chiesa è di Cristo non è di Pietro di San Pietro ma è di Cristo è lui che lo doveva solamente gestire in nome di Dio ovviamente quindi preghiamo per la Santa Chiesa e preghiamo per questo quindi questa situazione che è avvenuta a Bologna è grave fratelli e sorelle perché perché questo sta facendo aprire le porte dell'inferno fratelli e sorelle questi stanno facendo praticamente vogliono gestire tutto al demonio invece no bisogna gestirlo al Signore fratelli e sorelle con quello significa portare le anime verso la perdizione invece noi dobbiamo pregare che non avvenga e che la misericordia del Signore sia più potente rispetto a questo un saluto cari fratelli e sorelle a tutti voi Dio vi benedica sia lodato Gesù Cristo se potete se volete iscrivetevi al nostro canale e diffondete la parola di Dio è ovvio anche questi video perché è giusto far riconoscere quello che sta accadendo perché questo che è successo a Bologna è veramente grave fatelo girare se potete fratelli e sorelle ma non per me è per Dio per il Signore Gesù non per il sottoscritto io non conto nulla io vi auguro una buona domenica buona santa messa a tutti voi e sia fatta la volontà di nostro Signore Gesù Cristo e se avremo poi a cos'è Dio vuole vi faremo informare vi terremo informati per le nostre live intanto Dio vi benedica e sia lodato Gesù Cristo Amen Grazie a tutti